1.222 clienti allacciati, 56 chilometri di rete realizzata, 63 milioni di investimenti complessivi, 830 milioni di kilowattora il calore venduto, 287 mila tonnellate di CO2 non immesse in atmosfera. Sono i principali dati dei 20 anni di attività della società di teleriscaldamento, risultati illustrati a Tirano durante l'assemblea dei soci. Tutto è ben inizio nell'ottobre 1997 quando furono gettate le basi per realizzare l'ambizioso progetto, centrale alimentate con biomasse collegate a una rete in grado di diffondere calore nelle abitazioni, se poi aggiunta alla produzione di energia elettrica. Nell'arco dei due decenni il risparmio sulla bolletta energetica per i clienti è stato pari a 43 milioni di euro. I benefici economici per i comuni si sono attestati a 5,6 milioni. I dividendi distribuiti ai soci hanno invece raggiunto quota 1.600.000 euro. Il CIPAT utilizzato per alimentare centrali a biomasse è stato pari a 738 mila tonnellate per un valore di 36 milioni. Il fatturato derivante dalla vendita di calore è stato, dal 1997 ad oggi, di 82 milioni. Il risultato di questa stagione, ha spiegato ai soci il presidente Giuseppe Tomassetti, è positivo per circa 120 mila euro. Si è ridotta anche l'esposizione finanziaria. I debiti sono scesi da 18,5 milioni dal 2014 a 14,2 milioni di oggi. Il totale dei mutui a medio lungo termine, 8 milioni. È ormai congruo con il patrimonio netto della società, appare circa 7,5 milioni. E nel corso della prossima stagione sarà completato il pagamento di più del 50% delle attrezzature utilizzate in leasing. Il tele riscaldamento valterinese con le sue centrali di Tirano, Sondro e Santa Catrina Valfurva è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per tutto il settore. Il bilancio complessivo di questi primi 20 anni, commenta l'amministratore delegato Walter Righini, è straordinario. A livello ambientale sono stati risparmiati 99 milioni di litri di gasolio. Evitate emissioni di CO2 per 287 mila tonnellate, il risparmio per i clienti è stato di 43 milioni di euro.